La Regione cerca posti letto in albergo per dare ospitalità provvisorie ai profughi ucraini. È stato emanato in settimana l'avviso pubblico per verificare la disponibilità di strutture ricettive. Il documento è sul sito della protezione civile regionale che funge da soggetto attuatore dell'emergenza. Nel testo i requisiti che le strutture devono avere come un impianto di climatizzazione o condizionamento, un bagno privato, una televisione, la connessione a internet. Ogni struttura deve offrire almeno due singole e due doppie e garantire i pasti e il ricevimento H24. Va inoltre organizzato il trasferimento al centro sanitario di riferimento della fiera di Udine. Agli alberghi viene chiesto di proporre un prezzo per questi servizi. Sarà poi stilata una classifica partendo da quelli più economici. Le offerte vanno presentate entro il 31 marzo. È difficile dire quanti siano disposti a partecipare al bando perché siamo molto a ridosso della bella stagione e la regione chiede un impegno indicativo di 60 giorni più altri eventuali 60, commenta il referente di federalberghi Guerrino Lanci. L'avviso serve a prepararsi in caso non sia sufficiente la rete di ospitalità pubblica, dice il prefetto di Trieste, Nunzietto Vardè, che comunque non vede la necessità di interventi drastici come le tendopoli. Al momento io lo escluderei, al momento stiamo reggendo bene, in questo momento credo che non si debba ipotizzare iniziative del genere. Le registrazioni di nuovi profughi in regione sono costanti, ad oggi sono 3.144 distribuiti piuttosto equamente sul territorio. A Trieste e Pordenone più che altrove si è mossa la macchina pubblica. Il 34% dei rifugiati del capologo regionale è ospitato nei centri di accoglienza straordinaria reperiti dalla prefettura, spesso appartamenti. Seguono nell'ordine Pordenone, appunto, Udine e Gorizia. La maggioranza degli ucraini viene ancora ospitato in casa da amici o parenti, 4 su 5.